Fra poco partirà il penultimo Gran Premio della stagione del Moto Mondiale, della MotoGP e molto probabilmente si chiuderà oggi la lotta per il titolo perché a Phillip Island se Lorenzo arriva davanti a Dani Pedrosa si laurea campione del mondo per la seconda volta e sarebbe la prima volta che un pilota spagnolo riesce ad aggiudicarsi per due volte il Mondiale della classe maggiore ricordiamo rapidamente lo schieramento di partenza Casey Stoner in pole position la quinta volta in stagione e la quinta volta consecutiva a Phillip Island dove Stoner vince da cinque stagioni consecutivamente Stoner dunque in pole position davanti a Lorenzo per la nona volta consecutiva parte in prima fila lo spagnolo della Yamaha davanti al concorrente nella lotta per il titolo Dani Pedrosa in seconda fila in apertura Cratchlow, Bradel e Dovizioso nel frattempo è iniziato il giro di ricognizione per le moto in terza fila Bautista, Valentino Rossi e la CRT di Depugnet davanti all'altra Ducati quella di Nicky Hayden si sta per accendere il semaforo semaforo rosso partiti parte benissimo Orge Lorenzo che dovrebbe prendere la testa alla prima curva curva a destra in discesa eccolo là Lorenzo davanti alle due Honda HRC Orge Lorenzo oggi non farà il ragioniere negli ultimi due Gran Premi ha permesso a Pedrosa di passarlo gli è stato sufficiente gli è stato sufficiente mettersi dietro al connazionale della Honda e controllarlo per non perdere più punti di tanto ma oggi lo ripetiamo se Lorenzo arriva davanti a Pedrosa che lo sorpassa adesso in questo momento e Pedrosa si mette davanti allo spagnolo della Yamaha dicevamo se Lorenzo arriva davanti a Pedrosa ebbene Lorenzo diventerà campione del mondo terzo per ora Casey Stoner che ha stradominato tutti i turni tutte le sessioni e è in cerca della sesta vittoria consecutiva nel Gran Premio di casa e attenzione perché Stoner adesso cerca di attaccare Lorenzo mentre Pedrosa si gioca il tutto per tutto e cerca di prendere il vantaggio che gli consentirebbe almeno di girare tranquillo e non finire nella bagarre di chi lo segue creata da chi lo segue immediatamente ovvero sia Lorenzo e Casey Stoner ricordiamo che al termine di questo primo giro forse riusciremo a darvi anche il secondo Lorenzo attenzione Lorenzo viene affiancato da Casey Stoner in fondo al rettilineo in discesa a destra passa Stoner e adesso Lorenzo è terzo Stoner a caccia del compagno di squadra Pedrosa vi dicevo al termine di questa radio cronaca daremo la linea al GR1 e poi nel corso del GR1 delle 7 vi daremo conto della conclusione della gara Pedrosa tampinato da Casey Stoner non esiste gioco di squadra Stoner non vuole favorire Pedrosa per il semplice fatto che se ne vuole andare attenzione Pedrosa fuori e Pedrosa fuori mentre era in prima posizione attaccato da Casey Stoner clamoroso Pedrosa a terra in una piega a destra ha perso l'interiore a terra e così se ne vanno le residue e possibilità per Dani Pedrosa di vincere il titolo mondiale a questo punto è tutto in mano a Lorenzo deve prendere almeno tre punti al termine di questa gara e Lorenzo sarà campione del mondo clamoroso Pedrosa fuori nel corso del secondo giro Lorenzo ha non un match ball ma almeno 26 il match ball quanti sono i giri che mancano all'arrivo Pedrosa è risalito sulla moto è ripartito messamente ma non c'è più niente da fare se ne andrà anche il titolo MotoGP oggi è stato conquistato anche quello della Moto2 da un altro spagnolo Marquez che il prossimo anno sarà il compagno di squadra di Pedrosa e non da HRC e allora Zoner davanti a Orge Lorenzo è sparito dalla pista Dani Pedrosa ha scivolato in conclusione del primo giro Lorenzo è quasi sicuramente campione del mondo 2012 adesso la linea va al GR1 buona giornata Sport la MotoGP ha il suo campione del mondo per il 2012 in Australia Lorenzo approfitta della caduta al primo giro del rivale Pedrosa per vincere il titolo ci racconta tutto in un minuto Nico Forletta e già Pedrosa a terra dopo un poco più di un giro neanche un giro e mezzo su una curva a destra da percorrere in prima mentre era al comando del Gran Premio aveva approcciato la curva troppo largo era attaccato da Stoner dal compagno di squadra in quel momento secondo poi su immediatamente dopo Lorenzo Pedrosa ha chiuso troppo la traiettoria a terra da quel momento Stoner e Lorenzo nella storia perché Stoner ha vinto per la sesta volta consecutiva il Gran Premio di casa quello d'Australia mai nessuno come lui Stoner abbandonerà al termine della stagione peccato davvero un gran peccato nella storia anche Lorenzo perché è diventato il primo spagnolo di sempre a vincere due volte il titolo mondiale della classe maggiore a chiudere il podio sul terzo gradino Cratchlo con la Yamaha e clienti poi quarto Dovizioso davanti a Bautista e Bradel staccati di più di 23 secondi disastrose come al solito le Ducati Rossi e Aidan settimo e ottavo a 37 secondi la linea torna allo studio a chiudere il